Sono Daniele, ho 43 anni e vengo da Reggio Emilia. Ho seguito il programma Bella in Forma per sempre. Devo dire che per me è stato assolutamente utile. Il motivo principale è che posso allenarmi dove voglio, quando voglio, al parco, in pausa pranzo, a casa, in qualsiasi posto, in qualsiasi momento. Per una persona come me che ha poco tempo, ha due figli, lavora, questo è stato assolutamente fondamentale. La cosa che mi ha entusiasmato di più e dove veramente ho visto il valore di Bella in Forma per sempre è anche tutto il percorso collaterale che c'è di informazioni, di cultura che ci viene data. Per me è stata importantissima e ha costituito una chiave di svolta perché la consapevolezza che ho acquisito con tutte queste informazioni mi ha dato la possibilità veramente di iniziare a cambiare il mio stile di vita. E iniziare comunque veramente ad avere una qualità della vita diversa. Per cui ringrazio veramente tutti, sono felicissima di aver conosciuto questo programma e auguro a tutti di trovare la stessa positività che ho trovato io. Ciao a tutti e alla prossima!